Ho pensato di farvi un piccolo dono, non mancano i camelli ma vi darò il dono, il libretto icone di misericordia, il dono di Dio è Gesù, misericordia del Padre e per questo per ricordare questo dono di Dio vi darò questo dono che vi verrà distribuito dai poveri, dai senza tetto e dai profughi insieme a molti volontari e religiosi che saluto cordialmente e ringrazio di vero cuore. Vi auguro. Vi auguro un anno di giustizia, di perdono, di serenità ma soprattutto un anno di misericordia vi aiuterà a leggere questo libro, è trascabile, potete portarlo con voi. Per favore non vi risordate di farmi anche voi il dono della vostra preghiera. Il Signore vi benedica buona festa, buon pranzo e a rivelarci. Gli auguri di oggi del Papa si aggiungono a quelli che già ci aveva fatto all'inizio dell'anno Padre Cristiano ma sentiva il bisogno di aggiungere anche perché c'era questo dono personale del Papa. Sì, un dono di cui della misericordia, dell'essere misericordiosi è l'unico.